di Watt. Un Watt è l'equivalente di quello che in musica sono i 130 decimel, cioè il massimo della potenza che viene usata nella musica a livello acustico. Quando un tenore, un soprano, spacca un vetro durante un acuto siamo sui 130 decimel. Quando un jumbo jet è in decollo siamo sui 130 decimel. Moltiplicate questo per 10 miliardi e avete la potenza che è in grado di sviluppare questo sistema. Questo visto da più lontano. Quelle specie di Ruot che sono la base delle antenne, sono dei motori diesel a 3600 cavalli ma poveri Luna, che sono in grado di sviluppare l'elettricità necessaria per il funzionamento del sistema. Perché vi parlavo di Tesla prima? Perché questo progetto lo ha inventato Tesla. Ne parlava nel New York Times già nel 1915. Tesla si immaginava questo perché era un vero fisico puro che lavorava per i beni dell'umanità. Allora disse noi possiamo trasmettere l'energia elettrica attraverso la eurosfera. O come si diceva allora attraverso l'energia. Sì, è possibilissimo. E infatti nel 1987 il fisico americano Eastlund ha il prevetto per un'operazione del genere, ma non più per trasmettere energia. Facciamo un passo indietro. Arco Company è una società di ricerca petrolifera statunitense che acquista i giacimenti, all'inizio degli anni 90 acquista i giacimenti petroliferi e di gas dell'Alaska. Alaska che è ricchissima, attenzione, di gas e di petrolio. Qual è l'idea dell'Arco Company? Anche questa molto buona e civile per il bene dell'umanità. Infatti l'Arco Company vuole costruire lì in Alaska una mega centrale e poi usare il progetto Tesla per trasferire l'energia a tutto il mondo. Questo non avrebbe scappato per niente anche gli interessi corporistici contro i quali dovremmo essere per principio. Non deve esistere un solo fornitore di energia. Questa non è l'emocrazia, è mafia, è dittatura. L'Arco Company inizia la costruzione. Sapete, due anni dopo si inserisce la CIA e le system che lavora per la CIA allontanano l'Arco Company perché hanno capito che quel sistema può essere operato in maniera negativa. Il Tesla già aveva detto nel 1915, attenzione, che questa scoperta in tempo di pace può far vivere l'umanità, ma in tempo di guerra può avere un potere destruttivo veramente catastrofico. Ecco le antenne ancora viste dal più vicino. E così via, ecco, che cosa c'è alla sommità di queste antenne alte, 22 metri, costruiti secondo dei tipoli, in grado di emettere alte frequenze. Ma attenzione che lì già c'è l'improlio, come diceva Sommaggio Alfredi oggi, per deviare la comprensione dell'uditorio, del pubblico e dei cittadini dei cosiddetti stati democratici. Ma la democrazia, attenzione, non esiste da nessuna parte del mondo. Non vi fate di finocchiare che negli Stati Uniti c'è la democrazia e invece il Milan non ci sia. Sono tutte palle. In realtà vogliono distruggere i paesi musulmani perché i paesi musulmani hanno un sistema finanziario che si chiama HAWA che non ammette l'usura sul prestito delle banche. E naturalmente ecco che gli Stati Uniti vogliono assolutamente distruggere. Attenzione che quando c'è qualcosa che non si capisce c'è sempre un interesse finanziario bancario, che io direi dei banchisti, cioè dei banditi di questa società. Tutte le guerre sono state montate all'arte dai banchieri. Ecco come funziona HAWA. Dal punto A, B, si spara un raggio da Gacona, raggiunge la Ionosfera, dove vedete una specie di forungolo. È la Ionosfera che si riscalda, si surriscalda e questo è l'aspetto molto negativo di questi esperimenti. Cioè stanno bombardando la Ionosfera, che come dicevo prima è una sorta di bolla di sapone, con il rischio, come dice la scienziata Elizabeth Rauscher, di bombare energia dal punto che la Ionosfera potrebbe scompiare di un momento all'altro. E la Ionosfera ha, come la nostra pelle, la capacità di bloccare le microparticelle, l'energia X adatta energia, perché come vengono dallo spazio, quindi causando la morte di ogni essere vivente della vita sulla Terra. Attenzione, qui stiamo parlando della nostra sopravvivenza. ecco come funziona a livello, quindi, di rigaduta a Terra. Perché vi dicevo che c'è un imbroglio già nel high frequency, alte frequenze? Perché chi ma giuntia un po' di fisica, sapevissimo che se io sparo sulla Ionosfera una frequenza di 1000 Hz, facciamo un esempio semplicissimo, e subito dopo, di 996 Hz, la rigaduta a Terra sarà di 4 Hz. Voi direte che 4 Hz sono pochissime. Cosa fanno? 4 Hz. 4 Hz invece sono quelle adoperate per manipolare i nostri cervelli, perché si è scoperto che il nostro cervello lavora in diverse modalità, sapete? Quando siamo nella fase di sonno comatoso, il nostro cervello mette delle frequenze che vanno da 0,5 a 3 Hz. Quando siamo nella fase REMS, Rapid Eyes Movements, quando muoviamo gli occhi veloci perché stiamo sognando, tanto per intenderci, il nostro cervello emette delle frequenze che vanno da 3 a 7 Hz. Quando ci svegliamo e incominciamo a fare i nostri lavori, incominciamo a scaldare il caffè sul fornello, vi è mai capitato che rovesciate tutto? Perché il cervello sta usando delle onde molto più volte rispetto a quelle che sono invece necessarie per il funzionamento della vita quotidiana, che sono le onde, le onde alfa e beta. Ecco perché, siccome tutto è molto più lento, in pratica la mano arriva dopo, o viene sfinanciata le onde prima e quindi versiamo il caffè per terra. Perché c'è bisogno che si investino invece queste onde dagli 7 ai 12 Hz che implicano l'attività della fase della sveglia, della peglia. Poi da 13 a 34 Hz abbiamo le altre onde che state usando voi in questo momento cercando di comprendere quello che io vi voglio trasmettere. Dalle 34 alle 64 le onde gamma sono quelle che permettono agli scienziati di fare le grandi scoperte, ecco perché ecco ci si stanca quando si usano le onde, si fanno dei lavori di ricerca, di analisi scientifica, di analisi sociologica, di connessioni filosofiche e così via. Questo sono un'arco al tramonto. O. Andiamo un po' più adunque. Nel libro Guerra senza limiti, scritto da due colonnelli dell'aeronautica cinese, Kiao Yang e Wang Xian Sui, vi sono cose che fanno raddividere. Dicono infatti, utilizzando metodi che provocano terremoti e modificando le precipitazioni piovose, la temperatura e la composizione atmosferica, il livello del pane e le caratteristiche della luce solare, si danneggia l'ambiente fisico della Terra, si crea un'ecologia locale alternativa. Forse presto un effetto tipo il nino, creato dall'uomo, diventava una superarma nelle mani di alcune nazioni e organizzazioni non statali. Attenzione che il governo statunitense, i parlamentari, i senatori, sono all'oscuro di tutto questo. O almeno gran parte di essi non lo sa. Gran parte degli statunitensi, anzi forse tutti gli statunitensi che hanno dovuto subire questi primi esperimenti, è all'oscuro di tutto. Quindi non stiamo parlando di Stati Uniti come demonizzazione sociale, stiamo parlando di questo governo ombra che gestisce a livello internazionale questi fatti. State comprendendo che allora con questa arma possiamo controllare il modo di pensare delle persone? Fate vero che il direttore della CIA ha scritto priorità assoluta per gli Stati Uniti è il controllo mentale delle persone affinché noi possiamo far fare alle persone quello che vogliamo.